Si parte? Eccomi qua, Duma! Le eluzioni di vento? Non ho letto, hai letto cosa diceva? Dove? C'era una roba sulle eluzioni di vento No, non l'avevo neanche visto Dannazione! Windwall chiuso! Che facciamo adesso? Dirizziamoci verso la crew! Andiamo un po' lenti, eh? Sì, metti in pausa un attimo Eh, vabbè però, fra tiga! Cioè, non è possibile! Che cazzo! Come cazzo andiamo? Se smetti di riscattare il vento ti manda indietro Sì, ma come... Ma dove sei tu? Ah, ok, sei qua Ah, qua, scemo JK Durante le eluzioni di vento alcuni oggetti possono essere staccati Usati per eliminare nemici e pontificare il campo di battaglia Spara le barriere per eliminare... Ah, ok Così Ah! Grazie, grazie Prego, vabbè Non c'ho più vita Non fatevi sbagliare Madonna che bordello Potremmo essere al sicuro Ah sì? Cosa intendi per il sicuro? Non morti subito! Possiamo salire, va a me? Oh, merda! Secondo me... Porca... Boh E si parte con l'atto 2 Fra... Ma è normale che sia successo tutto questo? Sì Sì Ah, perché... In sto gioco muori e basta in pratica Si è staccato tutto Però... Ehi, che mi sono perso! State tutti bene? Però... Kate ha ancora il cappello? Bene! Bene! Ehi, sgorbio! Resta qui! Ok, dai! Allora, fuggitivi Queste grosse mura COG Non vi fanno venire nostalgia di casa? Wow! Ancora la cazzata dei fuggitivi? Lo sai che non ci servi, vero? Rain ha detto a noi due di fare questa cosa Non a te Mi spiace, intelligentone Dove va lei, vado anche io Non ho bisogno di una babysitter, zio Chiamami accompagnatore, allora Te ne dici se ti chiamo Sbronzo? Sei proprio un duro, non è vero? Zio JD ha ragione, sei Sbronzo In realtà Sono ancora un po' brillo Si parte Gli insediamenti COG sono costruiti dall'interno verso l'esterno Quindi il fabbricatore si trova al centro della città Lo prendiamo e andiamo Di certo ci sono un sacco di DB di sicurezza là dentro Sono sei mesi che gli estranei non attaccano Avremo l'effetto sorpresa Non puoi sorprendere un robot intelligentone Un tempo li comandavamo, te lo ricordi? Ah sì? Tipo all'insediamento 2? Ehi! Non è stata colpa loro Hai problemi ben più grandi della testardaggine, giovanotto Loro praticamente vivono fuori dagli insediamenti COG E adesso hanno bisogno di prendere delle risorse da questa città COG per il loro accampamento Per entrare dobbiamo scendere Andiamo Questa città è abbandonata? Eh sì E perché continuano a costruire? Oh figo guarda Stai fermo? Probabilmente sono più veloci Chi vuoi? Si può fare scambio armi ha detto Tipo avvicinati un compagno Vai verso di lui E premi Tieni primo tu E per fare scambio armi Prova? Tieni primo tu E? Ah lo sta tenendo primo tu Come si fa? Magari lo puoi fare solo con alcune po' Fra? Vabbè bello Eh vabbè Ah io comunque c'ho fucile di precisione quindi devo stare un po' indietro Sì sì ho visto Un osservatore Non ci vede Non osserva tanto bene Voglio fare cambio l'arma Devo andare a corsa da covacciare di DM e muciare finalmente Ma come si fa quella cosa a covacciare? Ah così Hai letto anche tu il consiglio? Sì Ah figo il volteggio non lo sapevo se potesse fare Però non riesco a farlo A me non lo fa Come fai a farlo tu? Eh? A me non lo fa fare Non farci beccare Il volteggio Cioè devi correre verso un con tenendo premuto spacebar Verso un oggetto e poi premia F Dai la scale! Torniamo in superficie! Boh Cosa stiamo facendo che ci stiamo perdendo a far cazzate? Io non sto... Non ho capito Fra ma tu dove sei? Noi siamo sopra E io stavo volteggiando Io pensavo fossi spazio Eccomi qua Buongiorno signori Bella Oddio Ah ok normale Non mi ha neanche calcolato il tizio Gli sparo Direi di no Costruisce basta Per quello volevo sparare Ah qui c'è un collezionabile Prendi i collezionabili Preso Raccogli tutto Buongiorno Oh merda Che so gli shepard? Ah I soldatini Mi spacchiamo Lasciate fare a me Eh mi sa Devo fregargli l'arma Perché il fucile di precisione Non lo voglio Non lo voglio io Allora quando lo lascio a terra Tu Ese Lasciate fare a me Cheat Niente cittadini qui Davvero? Cosa? Cittadino implica una forza Di lealtà verso Un'autorità centralizzata Io invece mi reputo Un membro di un collettivo anarchico Cittadino Il tuo lato dierezza è stato registrato Bella Buongiornissimo signori Non credo proprio Allora subito a fregargli l'arma Vai Facci di precisione qua per terra Se lo vuoi Subito Ma non ha colpi Come non ha colpi Le munizioni sono mie Le munizioni sono mie Vabbè fottiti Vabbè c'è il presente Bella l'arma dei robottini Che arma? Non lo so però è figa Niente Tolgo il fucile di precisione Perché non ha proiettili Allora sanno che noi siamo qui E adesso Ora Nuovo piano Ci facciamo spiagare La fabbricatore Costruisce basta Sì ma c'ha un fucile della madonna in mano Ma non è un fucile È una roba per costruire Pirlo Oh cavolo non adesso Ma cosa? Che ne so È citata la tipa Andiamo Ah perché hai sbagliato la ricarica Poi il meno Ah Fallo tu dall'altra parte Tu vai Vedi qua 3 2 Vai Bello Ah V devi premere Eh l'ho capito dopo Morto Figa che ho premuto F Ma che cazzo vuol dire V E resta a terra Ok via libera V Ma cos'è V? Non c'è a pettare le munizioni Ma sì ma anche su altri giochi Vi mette V quella roba Fa un paura sti cosi giganti Secondo me prima o poi ci attaccano Nah Eccolo qua Si gioca a calcio vai Easy Mamma mia di no Cos'è sta robina qua è una palla Non c'è più Siamo peggio E' un po' schifo Dai voglio un bel mini boss Ehi Fuggiarski Come si sta dall'altra parte di questi bot Mi mancavano i vostri vecchi amici Ehi zio Dacci un taglio Sono dei Bombers Ganata C'è lì tutti stanno inseguendo i Bombers I Bombers Aiutatemi Non ti prego la detenzione Anni sì Quale è la pistoletta? Sì Eh Prendo io Ce n'è uno che è compenetrato lo vedi? Sì lo vedo Come lo spacchiamo Così Gli lancio un mirtillo aspetta E' morto è morto è morto Bene sono tutti E ora come usciamo di qui Ed ho un cancello di sicurezza Bloccato Fermi tutti Fatemi pensare Questo sembra l'icona del vault di fallout La vedi? Ah si è vero Ziti sei stato tu Non sono stato io Sicuro che non siate spie C.O.G.? Zio per favore Tu pensi che C.O.G. creino le eruzioni di vento? Dici di no? Ma Anche se lo foste Almeno non dobbiamo insegnarvi a combattere E voi esiliati La maggior parte degli uomini di Reina Non è che non è che non è che si alzarsi dal lento Tu non vorresti ascoltare le lezioni di me zio Mi hai insegnato a combattere E' fortunato che io ancora gli parli Ehi, ero di grande aiuto E' solo un punto di vista Non proprio preciso Mi piace che quando corrono si abbassano Ma che t'abbassi? Che faci? No Aiutaci ad aiutarti Aiutaci ad aiutarti Stai vedere? Stai vedere? Stai vedere? Un altro botto di struttura No Aiuto Cazzo Stai via Questi hanno un'arma diversa Non le piacciono le mie Le mie fan cacca Le armi qua sono peggio di cod I colpi vanno Non è vero? Ah beh sì Quelle automatiche sì Stai usando il cecco tu? No E' un Il Il fucile semi automatico Non le sprecherò Era destino E' morto bro Dai tranquillo Tutto a posto Io ero un attimo agitato Seguji Altri Seguji Basta Questi sono cattivelli Questi sono stronzi proprio Dove stanno? Oh Questo è cattivo No Cazzo Ma che cosa serve Ricaricare Quella barra Che ti danno loro Bianca Ci mette pochissimo A ricaricare Se non ci mette molto di più Il centro di costruzione E' proprio sopra quel muro A meno che non si abbassi Per magia No Niente Dobbiamo trovare Un'altra strada Proprio non capisco Le incursioni sono interrotte Per ordine di mia madre Quanta sicurezza Che c'è? Non vi divertite? Ok Diamo un'occhiata in giro E cerchiamo un modo per passare Sto cercando di Di? Di abbassare il volume del cellulare Ma sai che fa un po' merda Non riuscivo Ok Non lo spiegherò Quene? Dobbiamo passare qui Raggiungi dentro L'insediamento Minchia Ah secondo me Possiamo passare da qua Tipo che c'è la porta aprivile No? Mi sa che il reparto maternità Con due c'è all'interno Non è che dobbiamo Passare direttamente Da lì dentro Ma ha detto Di trovare un'altra strada Si prende per i fondelli Io non so Gli fondelli Lo sentivo dal 91 Su Battlefield 1 Lo dice qualcuno Fra si entra da qui Ma ci sono andato davanti Sei scaso bro C'era l'interazione Ma non è vero Eh te lo giuro Ah no perché ha parlato Si vede che dopo aver parlato L'ha attivata Qui secondo me c'è un collezionabile Si può passare? No Stavo cercando anch'io ma E invece sono entrato Fra Non mi faceva entrare Non so perché Cos'è sta roba? Fra è un mister egg C'è un C'è un mister egg C'è una roba di fallout Questa è chiaramente La roba di fallout Sì E non mi ha aspettato nessun Rip Chi ti caga? Fra non so dove devo andare Devi salire Siamo tutti sopra Fra hai visto quanta roba L'avete lasciato indietro? No Se lo lasciate indietro Non l'ho vista Vabbè Il ragionamento fila Bene Il fabbricatore è dentro E quell'accesso per addetti È il nostro ingresso Il volt Sì dopo scelgo il nero Non il volt Il volt C'è proprio Il volt C'è un po' di tensione elettrica lì C'è del potenziale È Edison che mi ha plasmato Ma c'è roba qua JK 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 Tu mi stai prendendo troppe volte per il culo C'è Ogni tre per due è un JK Non va bene Oh Contatto Gli ho sparato un colpo di bomba in testa È rimasto lì C'è in faccia Non è rimasto lì Io gli ho smitragliato Guarda che non ce ne sono Cheat Eccolo lì Eccolo lì JK parte 21 Arrivano proprio tutti C'è una grigliata Li prendo io Ma che cazzo fai? Ho capito E se me lo spaccassi tu Oh cazzo non ho più granate Lancia la granatina Che non ne ho io È finita Ok dobbiamo spostarci perché No Tanti sono finiti C'ho una fame gang Easy Ho fatto un push tattico Bello di usare quest'arma è che trovi munizione ovunque Però non è fortissimo È fra Quella lì è una pistola no? È l'enforcer Eh sì ma non trovo altro Eh fa un po' merda Oh Cristina Sì vado in bocca Infatti stanno un attimo pushando eh Eh ho notato Bello di usare Maledizione Bella Bella Oh Ahia Quello è l'ultimo Risolto Oh guarda un po' I COG Non ho messo io il codice In effetti siamo nemici dello stato Cosa i COG non vi hanno insegnato ad aprire un semplice blocco d'ingresso Beh vatevi di mezzo Permesso Ci pensa lui Easy Vabbè proprio E il meglio della tecnologia COG Non penso che Ah ok Easy Andate a prendere quel fabbricatore Noi facciamo la guardia Vado con loro No non ci vai È più sicuro qui fuori La porta si chiude Giovanis Dannazione Facciamo il colpo no? Non ho più colpi della primaria Io non ho una primaria Oh A posto così Dimmi se vedi un fucile figo in giro Che cambio sta schifezza Che non fa danno Che c'è i nemici sono tosti Benvenuti al controllo carrelli Chiamiamo l'ascensore e iniziamo Attiva l'ascensore Fatto Bravissimo Grazie Hanno tutte queste dimensioni La stessa identica forma e disposizione Chiamare l'ascensore nel momento dei bisogni Sì 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 Siamo a bordo Mandaci giù Oddio qua ci scenderà il delirio su sta ascensore Già ho visto la scena Sì 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 No no Sto solo cercando di capire questi controlli Quindi il tizio muore Ecco Cosa sta roba Io non ho Vabbè Ho solo il pompa e la pistoletta Eh Vabbè Perché poi secondo me E io ho solo quello E la pistoletta anche Più più Eh arrivano Che succede là sopra Guarda quanti Non abbiamo munizioni Pim pipim Pim sui muri Ehi, ci sono un po' di DB. Ehi, non fermiamoci, ok? Ci sto provando, ma non ci capisco niente con questi comandi. Non so, provo. Si può, non si può. C'è il muro in visibilità. Fra! Fra! Ma che cazzo? Del, ma che cavolo stai facendo? Mi spiace, il sistema mi ha escluso. Ho tagliato la corrente per rientrare. Grande Del. Mi riesco a farlo andare o no? Ma se io avessi scelto il tipo in sta scena cosa succede? Non lo so, magari non puoi usare il tipo. Non so se tu posso usare Delfra. Mi sa di no, boh, non lo so. Mi devo causare attiva per tutto il game. E sono esploso. Ma ti sta bene. Ma porca puttana, dai! Facciamo un duello, facciamo un duello. Mettiti qua, mettiti qua. Io mi metto di là. Vai, allora. Ci giriamo. Uno. Due. Tre, vai. Di solito si parte... Fra! Ho ciò che qua... Io non mi muovo. Sono immobile proprio. Il diretto è esploso. Ecco qua. Allora, sta scena dura 6 ore. Kate, ricordami di lasciare te ai controlli la prossima volta, ok? Ho sentito! Guarda su, il fabbricatore. Eccolo, lo prendo? Peglio tutto. Non posso. Ah, così. Ok, mettiamolo sull'ascensore. Fermi, vai. Dall'altra parte è l'ascensore. Bellissimo! Ma dov'è l'ascensore, ragazzi? Ah, dobbiamo andare là! Pensavo dovessimo fare un altro giro. Ma io non devo neanche muovere il personaggio. Si tira da solo, rip. Faccio tutto io? Sto facendo tutto io? Sì, sì. Anche io posso sparare. Mi sa che questa meccanica servirà allora, prima o poi. Sì. Ok, è carico! Dell! Fai muovere questa cosa! Ah, c'è sette ore di scena per... Ah, adesso ci assaltano. Ci spaccano adesso, fra. Ci spaccano. Non vedo l'ora di portarlo a casa. Quei tizi a cui abbiamo sparato prima sul muro si svegliano. Cos'è sta roba? Fabbricatore? Ah! Potrebbe essere la cosa più stupida che hai detto. Possiamo craftare le armi, fra. Oh! Fra, meno male. Allora aspetta, facciamo un'arma decente. Come si fa? Perfetto! Così. Ma no! Ma... E io? Ma sei un pezzo di merda! Vabbè, io riprendo. Ah, il pacca punch! No, è mia! Non ci credo. No, fra ho sbagliato completamente. Mi ha preso la mia, va? No, fra ho sbagliato proprio totale. Non ho... Mi ha espulso di nuovo dal sistema! Sono sempre... Ma porca puttana! Arrivano i seguiti! Non ho più il fucile a pompa, fra. Ho cambiato fucile a pompa, per sbaglio. Dietro di noi, dietro di noi. Guarda, guarda dritto che io guardo dall'altro lato. Devo... Non ho capito. Eh, se prendi F vicino a un segugio, li allontani con un calcio. Ok. No, fra non prendere quello. Eh, lo so, lo so, ma l'ho appena fatto anch'io! Ecco gli altri! Allontanati lì! Fuori dal cazzo! Ahhhh! Ahhhh! Sto rientrando nel sistema! Tenete duro! Ci sono quasi! Perché la mia tipa si parla alla faccia? Ma spara! Ahhhh! Ah, che appagio! Oh, è tutto chiuso, giusto? Però attento che ti... ti schiaccia! Wow! Stiamo chiudendo! E vai! Ti faccio salire! Possiamo costruire? Ok. Sei immobile, immobile. C'è il mio fucile a pompa per terra, se lo vuoi, prendilo! Dov'è, dov'è? Per terra, qua! Eccolo qua! Hai visto? Mi schierà! Easy! Boh! Sono a posto! Non fa schifo, non spara, è rotto! Merda, non ci credo! Deve essere molto vicino ai nemici! Eh, io invece la pompa mi piace usarlo da lontano! Grande, bro! Quindi? Fra, te l'avevo detto, te l'avevo detto! Io chiudo questo! Nel dubbio! Eccoli qua! No, perché sto usando il fucilozzo? Questo è un mezzo punta e clicca, quindi! Bello! Forte l'hammer burst! Eh, anche io sto usando quello! Devastante! Ha la testa sciotta! A me piaceva un sacco quello che avevamo nella guerra pendolum, però non c'è più! Il lancer? No, vabbè, fra quello lì, quello lì torna sicuro! È l'arma principale di Girls of War! Sto a destra! 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 Aia! Sarebbe bello avere delle munizioni! Sì! Aia! Quando finiscono siamo obbligati a raccogliere le loro schifezze! No, ce li fabbriciamo, mi sa! Si può! Eh no, non le munizioni, ma chiudi qua! Vai di là, vai di là, vai di là! Vabbè, ho alzato il coso! Sto a destra! Bella! Situazione! Sto rientrando nel sistema! Tenete duro! Ci sono quasi! Bip! Metti un attimo in pausa! No, fra, non metto in pausa! Figa! Perfetto! Iniziamo molto bene! Che cazzo devi fare, figa? Aspetta! Metti tu in pausa! Fai tu le cose! Proteggo io! Intanto non stiamo vedendo un filmato che... Ok! Sì! Sono nel sistema! A qualcuno serve uno strafo? Sì, grazie! Oh! No, sto provando ad evitarlo! Boh! Io ho preso delle granate shock, comunque! Aia! Qui un saltino si potrebbe fare, però non lo fa fare! Ah, ma c'è Del! Ok! È sotto Del! Io non ho più ammo, comunque! Neanche io! Appena finite! Ho la pistoletta, però! Mi è rimasto solo l'hammer! Mi è rimasto solo l'hammer! Beh, ma l'hammer è forte! Ma è di pista! Un'assima che fuoche! Destra! Craftatene col fabbricatore, col fabbricatore, fra! Adesso ci provo! Ti copro io! Ah, è vero! L'ho fatto, proprio! Sono finiti, mi sa! Si spera! Mi serve aiuto! No! Il cazzo proprio! Boh! Ok! Sono a posto! Vi riporto giù! Grazie Bomber! Gentilissimo! Sarebbe bello! Ignorante! Ok, è stato divertente! Portiamo via il fabbricatore! Ah, giusto! Rip! Aiutami a portare questo coso! Aspetta, scusa, fermati! Se io lo lascio andare? Ti aiuta lui! Vediamo! Ah, non lo posso lasciare andare! Una volta che fai una cosa non è che puoi smettere di fare una cosa in caso! Non vuoi dircivi a Reina di recuperare un fabbricatore, JD? Ricordamelo tu! Entriamo e usciamo, un lavoretto da me! Non è un gentiluomo, scusami! Beh, ora sarà tutto più facile, no? Torniamo da Oscar! Qualcuno sarà molto, molto arrabbiato! Oscar, abbiamo il fabbricatore! Vettore! Ah, ciao! Tenente! Sei stato impegnato! Primo Ministro! Che aspetto... Magnetico! Basta stupidaggini! Venite con noi! Voglio qualcuno! Quelli sono nuovi! E armati! Esatto! È il loro maggior pregio! È un overkill, credo! Sì, è un overkill! Che c'è? Volete fare come all'insediamento 2? Un'operazione di grande successo! Adesso è il nostro insediamento più obbediente! Il villaggio è senza energia da settimane! Il fabbricatore ci serve! Non mi interessa un bel niente di quel fabbricatore! Voi prendete la mia gente! Cosa? Non dimenticare che so cosa siete in grado di fare! Però... Easy! Questo è importante! Questo dialogo che hanno appena fatto è importante! Non ne ho idea, ma dobbiamo andarcene da qui! Anche questo! Occio! Minchia! Ma questa è fuori! Un vero! Ehm... È misteriosamente troppo facile! Scusa se ti ho lasciato qui! Nessun problema! Alla fine era più sicuro dentro! Ehi, intelligentone! Davvero saliamo su quella cosa? Noi sì, ma resta pure qui se vuoi! Un condor! Un condor! Eh, vabbè! Ah! Ah! Questi qui sono i bomberissimi! State giù! No? Ah no! Pensavo si schiudessero quelle cose e uscissero i robottini! Ho un'arma a fianco, volevo dirlo! Posso usarla? Ah! E vedi che si schiudono davvero! Questi qui sono quelli con l'overkill! È un fucile a pompa automatico! Lo voglio assolutamente! Appena decidiamo... Boh! Ammazziamo queste e poi... 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 stoppo il video! Eh, se hai una granata... Fra le granate elettriche secondo me sono... Eh, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto! Eh! Ah! Dio! Ah! Questo è il nuovo super soldato ai geni! Bella merda! Ah, ti ha tirato su lui! Sì! Fra è fortissimo il loro fucile! Eh sì! Eh! Dov'è? Per terra! Ah no! È l'infor... No, no, no! Ah, sì! Ma no! L'inforcer è la mitraglietta! No! Overkill si chiama! Eh, te lo vè, infatti! Quello che dicevo io! Eh, vai a prendere l'inforcer i loro cadaveri! Eh, non riesce! Oh, cazzo! Le armi normali non gli fanno nulla, comunque! No, l'inforcer lo stava sfondando! No, c'ho... Però... Quello lì tutto solo che cammina in mezzo all'inizio! Ah! Morti, fra! Oh! Emmo! No, fra Emmo, vi siamo messi proprio di merda! Guardiamo un attimo intorno, perché... Quando sei comparso, stavo per sferrare la mia mossa vincente! Qua ci sono, ma non me le farà cogliere! Quindi tecnicamente... Le hanno preso un po' qui! Tu non mi hai affatto salvato come dici! Ma questo in forza è diverso da quello di prima! Eh... Eh... È blu! Eh, che cos'è? Boh! Ah, vedi che ti aiuta se non ti aiuto io! Oh, merda! Sfondano le pareti! Mori di spione! Arrivo! Lancio granata ad uno! Ci sei distrutto! Vi sto facendo un po' di danno o sbaglio? Sì! Vi sto elettrizzando! Mi hai praticamente usato l'elettroshock sulla faccia! Ahahahah!